Eccoci qui, eccoci qui Andrea, eccoci qui con Andrea Bucchi. Allora, non è andata molto bene oggi, eh? Beh no, sicuramente non è andata benissimo. D'altronde lo sapevamo che era una trasferta difficile. Abbiamo trovato una squadra che ha fatto una grande partita, sotto tutti i punti di vista, nel senso che ha fatto una partita maschia, una squadra che si deve salvare. E beh, siamo dispiaciuti, dai. Adesso dobbiamo rimbuccarci le maniche, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Per fortuna cambia poco, perché sempre dipende da noi stessi, dobbiamo essere tutti quanti bravi a saper gestire questo momento, che comunque sia, dopo una sconfitta dobbiamo essere bravi, nel senso che, perché comunque sia, dobbiamo capire che è ancora tutto nelle nostre mani, come dicevo prima. Il vostro approccio alla gara è stato condizionato dal risultato del Del Duca? Ma sai, indubbiamente a volte, anche se uno non vuole farsi condizionare, può condizionare, perché bisogna essere anche onesti, no? Perché è stato un po' molle. Sicuramente un po', diciamo, l'orecchio così lo tenevi, sotto l'aspetto ad Ascoli, però ecco, dobbiamo essere bravi, proprio come dicevo prima, in questo, a saper gestire, e a capire che dipende solo da noi stessi, e pensare solo a noi, perché noi dipendiamo da quello che facciamo noi in campo, ed oggi, come sappiamo tutti, potremmo fare qualcosa in più. Ti è passato per la testa, adesso entro e faccio il gol decisivo? Vabbè, quello, per un attaccante, è normale, no? Penso che faccia parte del mio mestiere, quindi, sono convinto che comunque sia chi vada in campo, la pensi come la penso io, sappiamo che da qui alle prossime tre partite giochiamo tanto, e abbiamo tutti quanti la voglia e la fame di raggiungere il nostro scopo. E quindi bisogna battere il ponte d'era domenica? Beh, sicuramente, domenica è una partita fondamentale, ovvio che ci dobbiamo preparare in questa settimana nei migliori dei modi, perché domenica non si può assolutamente sbagliare.